E vai, Vandosiris, siete circa uguali, vai Vi consegni anche se sei una donna, facciamo finta che siamo biodegradabili Biodegradabili Vuoi portargli, vuoi dargli la rosa? Sì, dai Con rosa Con rosa, scrive Ehi Scrivi con rosa, va bene Vai Sì Benissimo, ci siamo Allora ragazzi, abbiamo un messaggio con rosa Un messaggio con rosa, ragazzi Dov'è il cestino? Ragazzi abbiamo un messaggio con rosa, esistono ancora gli uomini romantici Va alla numero due Ragazzi, donna numero due Inquadra, inquadra, inquadra lei Eccola qua, numero due Complimenti Altti in piedi Un messaggio con rosa Fai una foto Un applauso Un applauso Alla due Puglielmo 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 Auguri allora Vai 40 anni Non sentire Complimenti Ragazzi Possiamo Il Vic Puglielmo Puglielmo